Fatti come quello di ieri mattina sono fatti gravi, fatti che non devono accadere in una città civile. Non sono fortunatamente fatti frequenti a Pordenone, questo ci dà l'indicazione che la città comunque è una città sicura. Noi dobbiamo comunque stare attenti e vigilare, abbiamo parecchi progetti e attività inerenti alla sicurezza, non ultimo il progetto che stiamo realizzando assieme alla Prefettura, al Comando dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, con la nostra Polizia Locale, che è un intervento anche di formazione, di coinvolgimento della città nella sicurezza, è una sicurezza partecipata dei cittadini. Questo è uno dei progetti più importanti, che non costerà fortunatamente nemmeno molto, visto che parliamo anche di bilanci e di ristrettezze economiche. Certo è che anche dallo Stato ci devono arrivare aiuti, non ci aiutano sicuramente interventi di tagli in questo ambito, non ci aiutano sicuramente azioni che indeboliscono il ruolo delle forze di Polizia. Noi abbiamo dovuto recentemente, questo lo devo dire, ritirare i manganelli, chiamiamoli così, comunque i manganelli segnalatori alla Polizia Locale, perché non è ritenuta un'arma in dotazione alla Polizia Locale, questo non ci aiuta, non perché dobbiamo usare i manganelli, ma perché questo rende anche più sicuro l'attività della nostra Polizia Locale. Questo è uno dei casi, ma ce ne sono altri. Noi comunque vigiliamo, la città, comunque io vorrei tranquillizzare i nostri cittadini, è una città sicura, è una città che ha dei problemi e dove eventi come questo, che non devono accadere assolutamente, appaiono molto più eclatanti, proprio perché è una città che ha una caratteristica di sicurezza superiore a tante altre.